In un quadro investigativo non particolarmente semplice proseguono le indagini dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Piacenza dedicate alla morte di Harvinder Singh, il cittadino indiano di 37 anni trovato agonizzante con tre ferite al ventre nella serata di domenica 7 giugno sulla strada del Colombarone a Castel San Giovanni. Alle difficoltà legate a differenze linguistiche e di cultura si sommerebbero silenzi e un atteggiamento di scarsa collaborazione da parte dell'ambiente in cui l'uomo viveva. Le liti che hanno visto protagonista Singh nella giornata di domenica, riferite da diverse testimonianze, avrebbero coinvolti i parenti della moglie. La comunità indiana lavora in un suo inificio nella zona, mentre la vittima sarebbe stata l'unica persona a non lavorare. L'esame autoptico sul corpo, inizialmente previsto per la giornata di oggi, è slittato domani. Da indiscrezioni si è appreso che il coltello, trovato a 15 metri dal corpo della vittima, è un modello da cucina con manico di legno e lama appuntita. Ora è oggetto di analisi da parte dei carabinieri dei RIS di Parma, con l'obiettivo di trovare tracce utili alle indagini. L'ipotesi di reato su cui indagano i carabinieri è quella di omicidio volontario, anche se inizialmente si era parlato anche di una ipotesi legata a un gesto disperato da parte della vittima. Gli investigatori dell'arma battono però anche altre piste, cercando di scandagliare l'ambiente della comunità indiana. Grazie a tutti.